Il progetto del Baby Sindaco che riproponiamo per il secondo anno è che si prefigge essenzialmente di realizzare due obiettivi. Uno è quello di sensibilizzare e stimolare un pubblico giovane ad avvicinarsi e interagire con l'amministrazione, a capire il vero significato di amministrare, cioè di rapportarsi spesso con i problemi di una comunità, che in questo caso, nel loro caso, è quello della scuola. E il secondo è quello di partecipare attivamente a quelle iniziative e alle manifestazioni che si svolgono sul proprio territorio. Credo che sia una bella esperienza di crescita personale e di formazione a livello civico, culturale, sociale e ambientale. E sono sicuro che i ragazzi sapranno fare tesoro di questi insegnamenti, perché troppo spesso hanno dei modelli negativi della politica, una politica spesso che è quella di tutti i giorni, dei giornali che appare sul giornale o che è in televisione, una politica negativa che parla spesso fatta di critiche a priori e di offese o di attacchi personali. Invece noi crediamo che la politica sia diversa, una politica fratta di idee, di idee da portare avanti, idee che sono positive per cercare di migliorare il proprio paese. Credo che questo progetto ne sia un esempio. La giornata cosa prevede? La giornata prevede un reale insediamento del consiglio, quindi il giuramento del baby sindaco, la nomina degli assessori e un breve, un riassunto di quello che è il programma che il baby sindaco porterà avanti in questo anno. Il nuovo baby sindaco è Leonardo Speca. E qual è il tuo programma di questo anno? Sarebbe migliorare la scuola anche per i ragazzi che verranno, per farli trovare meglio e quindi farli trovare più al loro agio. Cosa ne pensi dell'iniziativa? A me è piaciuta molto, infatti appena hanno proposto io mi sono subito proposto di candidarmi e con la speranza ho vinto, anche se altri sono stati anche bravi, ma mi è piaciuta molto insomma.